Una corona d'alloro deposta sul mare, sulle note del silenzio e tanta commozione. Al porto di Acciaroli si è tenuta una celebrazione di commemorazione in memoria di Angelo Vassallo, assassinato il 5 settembre del 2010. Tante le persone presenti, soprattutto sindaci provenienti da molti comuni del Cilento e non solo, che adesso, insieme alla famiglia, chiedono con forza giustizia per il sindaco pescatore, diventato ormai un esempio di legalità e sostenibilità. Durante la commemorazione, il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, è stato insignito del premio Angelo Vassallo, consegnatogli dalla moglie del sindaco pescatore, Angelina, visibilmente commossa. Intanto emergono altri particolari sull'omicidio di Vassallo. Domenico Vaccaro, all'epoca consigliere comunale di Lustra e amico del sindaco pescatore, aveva riferito agli inquirenti delle paure e delle preoccupazioni di Vassallo. Ho visto e sono venuto a conoscenza di cose che sarebbe meglio non sapere, gli avrebbe confidato, ho paura che mi fanno fuori. Del timore di essere ucciso, il primo cittadino non faceva mistero con le persone vicine. Aveva scoperto del traffico di droga al porto di Acciaroli e non si fidava più dei carabinieri di Pollica né di quelli di Vallo della Lucania, tanto da aver preso un appuntamento con il comandante della compagnia di Agropoli per raccontargli tutto, incontro purtroppo mai avvenuto. Spunta inoltre un super testimone, ritenuto dagli inquirenti degno di massima fede, che raccontando di una conversazione avvenuta a casa di uno dei Palladino, aveva percepito il possibile coinvolgimento di Cagnazzo. Il colonnello, avrebbe riferito, poteva aver esercitato pressioni sui fratelli Palladino, affinché confermassero che il carabiniere Molaro quella sera non si era mai allontanato dal gruppo.